il countdown è ufficialmente iniziato la nuova coloratissima collezione in edizione limitata tasamance di ikea sarà in vendita in negozio e online a partire dal 29 marzo il duo di designer olandesi di raw color ha collaborato con ikea per creare 18 prodotti che celebrano il potere emotivo benefico del colore il risultato una collezione dalle forme essenziali linee grafiche e un'esplosione cromatica perfettamente però bilanciata perché te ne parlo nessun movente pubblicitario da parte mia bensì amore a prima vista bentornata o bentornato sul canale di casa con svista un progetto editoriale multimediale che tra blog podcast e youtube ti propone ispirazioni dal mondo dell'interior design home green decor fai da te ed intorni io sono gloria una giornalista appassionata autodidatta del mondo dell'arredo insieme andremo a caccia di storie di case e cose utili per rendere gli spazi che viviamo ancora più wow apro e chiudo una piccola parentesi sul partner di questa nuova collezione di ikea ovvero raw color cioè lo studio fondato nel 2008 a heimdoven dai designer ed esperti cromatici christoph brach e daniera terhar lavorano nel design grafico nella fotografia e nel design di prodotto ed hanno esposto le loro creazioni in musei e gallerie di tutto il mondo sono noti per le loro tavolozze di colori non convenzionali e la capacità di creare connessioni inaspettate tra colori materiali e forme ma vediamo ora tutti i 18 pezzi della nuova collezione tesamans del marchio ikea una limited edition che spazia dai mobili ai tessuti dagli accessori per la tavola alle decorazioni tessitura piatta artigianale a mano misura 155 per 220 centimetri il tappeto tesamans è in lana e presenta lo stesso motivo a righe blocchi di colore e griglie su entrambi i lati e quindi si può girare per utilizzarlo anche al contrario perfetto da collocare in salotto accanto a divano e poltrone ma anche per aggiungere carattere in camera da letto per i più audaci sotto al tavolo della sala da pranzo e in cucina ideale per confezionare tovaglie fodere per cuscini o tende il tessuto a metraggio della nuova collezione disegnata da raw color perichea e serigrafato su cotone ed ha una larghezza di un metro e mezzo lungo poi quanto vuoi il pattern anche qui è formato dall'intersezione di righe di diversi spessori e colori perfetto complemento per il divano la poltrona o il letto la coperta tesamans che misura 120 per 180 centimetri presenta una doppia grafica strisce colorate su un lato e due grandi quadrati coordinati sull'altro è in cotone lavorato a maglia da una texture morbida e leggermente elastica fodere per cuscini plaid e tappeto hanno uno stile coordinato e d'impatto grazie alle nuanze ai motivi che si abbinano tra loro le fodere in cotone sono disponibili due formati quello rettangolare che misura 40 per 58 centimetri quello quadrato 50 per 50 centimetri la fodera lo stesso motivo colorato su entrambi i lati e quindi è double face il tavolino rosa e rosso marrone misura 37 centimetri in altezza e 37 di diametro è realizzato in lamina di acciaio ondulato e funge anche da contenitore con spazio per organizzare gli oggetti e nasconderli all'interno sollevando il coperchio lo vedrei molto bene anche come comodino basso tra tutti il mio preferito un pezzo funzionale un mobile porta oggetti che misura 72 centimetri in altezza e 42 centimetri per lato con apertura a diverse altezze facile da spostare grazie alle ruote bloccabili perfetto come spazio aggiuntivo in cucina ingresso camera da letto bagno ufficio domestico il mobile contenitore con ruote è identificativo del design di raw color tavolozza vibrante linee grafiche che spostandolo per casa producono un effetto muare che significa è un fenomeno visivo in cui motivi lineari sovrapposti creano un nuovo motivo ondulato mostrando l'interazione dinamica tra colori forma e movimento lo stesso effetto ottico del moiré che ti ho appena descritto per il porta oggetti caratterizza in particolare il movimento meccanico dell'orologio da parete tesamans ha un diametro di 21 centimetri ed è formato dalla sovrapposizione di più dischi metallici forati in modo da formare delle griglie il grande cerchio verde mostra le ore quello rosa pallido in minuti e quello più piccolo blu avanza ad ogni secondo i paralumi della collezione tesamans sono proposti in due tonalità e in due versioni nei toni del giallo come lampadario che misura un diametro di 35 centimetri un'altezza di 18 e mezzo o del rosso come lampada da tavolo con un diametro più ristretto di 27 centimetri un'altezza di 20 centimetri i paralumi sono formati in entrambi i casi dalla sovrapposizione di tre coni metallici in altrettante diverse gradazioni dei toni del giallo l'uno e del rosso l'altro questi lampadari o lampade a seconda della configurazione che si desidera una volta accesi creano nella stanza un'atmosfera morbida e accogliente per la modalità lampadario va acquistato il cavo per la sospensione a parte idem per la base della lampada da tavolo la decorazione sospesa o mobile è una composizione formata da elementi in metallo leggermente curvati e dai colori accesi da appendere al soffitto al centro della stanza misura un diametro di 74 centimetri in un'altezza di 65 o in un angolo ad esempio sopra un tavolo il set coordinato composto da vaso che misura 22 centimetri e di altezza e un diametro da 14 e portavaso un'altezza da 14 centimetri un diametro da 18 riunisce quasi tutte le tonalità della tavolozza della collezione tesamans disegnata da raw color per ikea bando alla monotonia il pattern a righe multicolor consente di cambiare l'effetto decorativo finale semplicemente ruotando vaso e o sottovaso per ottenere sempre nuove e diverse combinazioni cromatiche risultano degli efficaci elementi decorativi con o senza piante o fiori al proprio interno la collezione tesamans include anche una selezione di accessori per la tavola la caraffa in vetro opaco blu da un litro e i bicchieri in barosilicato trasparente rosa pallido e marrone chiaro interagiscono con inediti effetti cromatici quando sono impilati la caraffa si può utilizzare anche come vaso per i fiori o decorazione pausa tè o caffè che sia l'importante farlo con stile a questo ci viene in soccorso la tazza a righe multicolor della nuova collezione di ikea tesamans realizzata in grass smaltato e lavabile in lavastoviglie ed è adatta anche al microonde i tovaglioli di carta con grafiche particolari se mi segui da qualche tempo sai che sono una delle mie passioni soprattutto quando ospiti per pranzo e cene informali mi piace aggiungere un tocco di brio alle mie mise en plus disponendo dei tovaglioli in carta dai pattern originali la versione multicolor della collezione tesamans è decisamente perfetta per le mie prossime tavole questi vassoi decorativi sono un delizioso tocco di colore in verde dal diametro di 30 centimetri e lilla più piccolo dal diametro di 25 da utilizzare separati o uniti l'uno dentro all'altro per creare nuove combinazioni decor in casa perfetti anche come vuotatasche rimangono in posizione grazie a dei piedini in plastica che li proteggono anche dai graffi non sono però utilizzabili attenzione a contatto diretto con gli alimenti il set da due porta candele per il formato t light cioè i lumini giallo e rosa in metallo forato non appena si accende la candela crea un'ombra decorativa che diffonde nella stanza un'atmosfera calda e accogliente si possono utilizzare separatamente oppure posizionando quello rosa che ha un'altezza di 12 centimetri un diametro di 8 centimetri dentro a quello giallo che ha un'altezza di 8 centimetri un diametro da 10 centimetri cosa ne pensi fa impazzire anche te la coloratissima collezione tesaman disegnata da raw color per ikea a quale tra i 18 nuovi prodotti non riusciresti proprio a rinunciare fammelo sapere nei commenti siamo dunque arrivati alla fine anche di questo video lasciami un bel like se ti è piaciuto e iscriviti al canale per aiutarmi a farlo crescere cliccando sulla campanellina saprai anche appena uscirà il prossimo video ti invito a seguirmi anche sul blog www.casaconsvista.com e sul podcast che trovi su tutte le piattaforme di streaming audio cercando casa con svista un caro saluto e ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao